Musica Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio Veneto. Domenica di maltempo alcune zone della regione hanno sofferto più delle altre per fenomeni di forte intensità. Alcune criticità si sono sviluppate anche tra la notte e il mattino di oggi come in provincia di Vicenza. Alcuni massi si sono staccati da una parete finendo la loro corsa su un tratto della provinciale 81 in località Fusine di Posina in provincia di Vicenza nell'alto vicentino. Pensate che uno di questi massi era di circa 2 metri cubi ed è il peso di diversi quintali. Fortunatamente nell'area non stava transitando nessuno e quindi nessuna persona è rimasta coinvolta. I danni sono stati molti in varie zone del territorio. Qualche momento di apprensione a Monselice in provincia di Padova per l'improvvisa colata di fango e acqua dal Monte Ricco. Vi raccontiamo con gli istanti. Una colata di fango, sassi e acqua ha travolto una zona di Monselice in provincia di Padova dove ci sono diverse abitazioni. L'emergenza è scattata nel tardo pomeriggio di domenica in via Solana. Sul posto in pochissimo tempo è scattata la macchina dei soccorsi. Presente il sindaco che ha seguito tutte le operazioni da vicino tenendo informata anche la popolazione al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. La frana ha avuto origine dal Monte Ricco. Una donna e una bambina sono state evacuate a scopo cautelativo dall'abitazione più a monte della via. Un'altra casa è stata invasa dall'acqua in quanto i sassi e il fango hanno ostruito un canale di scolo di deflusso dell'acqua. La violenza del maltempo è stata forte in tutta l'area di Monselice dove alcuni sottopassi sono stati completamente sommersi con le auto all'interno. E restiamo ancora sull'argomento maltempo perché anche nella provincia veneziana ci sono state numerose richieste di aiuto. Il tetto di un condominio è stato scoperchiato dal forte vento nel corso della perturbazione. È successo tutto in una manciata di secondi a Salzano ma la perturbazione ha creato varie criticità nell'area veneziana e in diverse zone. A Lido si sono verificati dei malfunzionamenti degli impianti fognari, numerosi gli allagamenti al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. decine e decine le richieste di aiuto. E a Portotolle in provincia di Rovigo un grande spiegamento di uomini ha salvato un uomo che era naufragato in mare. Guardate i momenti del salvataggio. Un uomo di 62 anni affondato nel primo pomeriggio di domenica con la propria imbarcazione in mare a circa due miglia dalla costa di Portotolle è stato salvato dall'equipaggio dell'elicottero Drago 154 dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori. L'uomo poco prima di affondare per aver imbarcato acqua è riuscito a dare l'allarme alla capitaneria di Porto che ha allertato i vigili del fuoco. L'equipaggio del reparto volo di Venezia ricevuta la chiamata ha effettuato un decollo immediato arrivando in pochi minuti. Le prime ricerche sono state effettuate sul delta del Po per poi spostarsi in mare aperto. Dopo l'avvistamento di alcuni detriti galleggianti è stata individuata la prua dell'imbarcazione quasi completamente sommersa. Dal punto del rinvenimento della barca è stata effettuata una ricerca in direzione delle correnti e del vento ritrovando a circa un miglio il naufrago. Un sommozzatore si è calato in acqua raggiungendo l'uomo che è stato imbragato e portato a bordo dell'elicottero. Il naufrago in buono stato di salute è stato sbarcato a Porto Viro dove è stato preso in consegna da un'ambulanza del SUEM per un controllo sanitario. Attività di contrasto della Polizia di Stato a Padova, arresti, denunce e sequestri per droghe e reati contro il patrimonio. Anche questa settimana l'attività di contrasto della squadra mobile della Questura ha portato a diversi arresti e denunce per immigrazione clandestina, reati contro il patrimonio e per possesso di stupefacenti e ovviamente spaccio. Sono stati arrestati tre stranieri irregolari di cui uno per evasione, un minore straniero non accompagnato per spaccio di hashish. Sono state inoltre denunciate due persone per reati contro il patrimonio e una è stata segnalata per possesso di droghe. Adesso dobbiamo purtroppo per l'ennesima volta parlare ancora di una tragedia sul lavoro. È successo nella mattinata di sabato a perdere la vita in provincia di Venezia un uomo di 49 anni. Ci racconta cos'è accaduto Emanuele Compagno. Un pesante macchinario che gli cade addosso è morto così Andrea Grigio, un operaio di 49 anni impiegato presso la OMCSRL di via Prima Strada 2 a Camponogara. Stava utilizzando un carro ponte quando, per cause in corso di accertamento da parte del personale Spisa l'intervenuto sul posto, il pesante oggetto gli è caduto addosso uccidendolo. Andrea viveva insieme alla moglie a Campagna Luppia in via Michelangelo presso un nuovo quartiere di recente realizzazione e non era originario del posto ma si era trasferito all'ova di Campagna Luppia alcuni anni fa. Un'anima il cordoglio da parte delle istituzioni. Il sindaco di Camponogara Antonio Fusato ha espresso subito solidarietà alla famiglia e anche il sindaco di Campagna Luppia ha espresso la sua vicinanza alla moglie. Alberto Natin ha detto mettiamo a disposizione i nostri servizi sociali per ogni aiuto. Anche i sindacati hanno espresso la loro solidarietà. Prestigioso studio all'Università di Padova che realizzerà modelli statistici sui tumori alla polmone. La stadiazione definisce l'estensione e il processo di avanzamento di un tumore. Questo studio prenderà via in città e durerà sette anni. Saranno analizzati 150.000 pazienti da tutto il mondo. Al termine dello studio saranno pubblicate le nuove indicazioni per la stadiazione di questi tumori. L'obiettivo è quello di fare delle diagnosi più precise e anche quello di stabilire delle cure e dei percorsi più personalizzati. Un incendio di vaste dimensioni ieri ha interessato in provincia di Verona il pastificio Rana. Sarebbe stato provocato da uno scoppio di un gruppo frigo l'incendio divampato domenica pomeriggio all'interno dello stabilimento del pastificio Rana San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona. Erano le 17 quando sono divampate le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Fiamme e fumo sono stati visibili anche da lontano. Sul posto hanno operato numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno circoscritto e spento il fuoco evitando la propagazione dell'incendio ad altri reparti. Una valvola di distribuzione d'ammoniaca danneggiata dallo scoppio è stata subito messa in sicurezza. Sul posto presente è anche il carro nucleare biologico-chimico-radiologico. Un altro senza fissa dimora è stato arrestato in forza di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Verona per evasione. L'arresto è avvenuto a Padova. L'uomo era stato condannato a due anni e tre mesi per spaccio, guida in stato di ebrezza, violazione delle misure di prevenzione, lesioni e bancarotta semplice. Ma era stato ammesso all'affidamento in prova presso una comunità di Padova e se ne era volontariamente allontanato. Dovrà adesso finire di scontare la pena nella casa di reclusione di Padova. Una notizia importante per alcuni cittadini sicuramente c'è tempo fino al 31 dicembre per usufruire dei bonus casa in scadenza nel 2024 per installare una tradizionale caldaia a condensazione. Nel 2025 gli incentivi per questo tipo di impianti non ci saranno più. A patto di rispettare questi requisiti oggi si può ottenere un'agevolazione pari al 50, 65, 70% a seconda delle scelte. E adesso andiamo a Trebaseleghe per un servizio speciale che abbiamo realizzato in occasione della 840esima edizione dell'Antica Fiera dei Mussi. Guardate. Sabato 7 settembre 2024. Siamo in provincia di Padova. Ci troviamo nella comune di Trebaseleghe. Oggi è una giornata davvero speciale, davvero importante, dove tradizione, storia e territorio si uniscono per condividere una giornata favolosa. Una giornata che si racchiuderà in momenti tanto speciali e emozionanti che noi cercheremo di portare nei vostri schermi. Rimanete con noi. Evviva! Evviva l'840esima Antica Fiera dei Mussi! Ci troviamo con il Vice Sindaco Pizziolo. Una grandissima giornata oggi. Assolutamente sì. Siamo molto orgogliosi di questa giornata. Per fortuna il tempo ci ha aiutato. Avevano previsto brutto la scorsa settimana, ma per fortuna è cambiato. Siamo veramente in tanti, da questa mattina alle 6 e mezza con la tradizionale trip alla parmigiana. Il Parco Draganziolo è foltissimo di persone e questo veramente ci rende orgogliosi perché per organizzare questa fiera ci vogliono tante forze. Si inizia subito dopo la fiera precedente e quindi è soddisfazione veramente vedere così tanto pubblico. Anche l'Europa presente qui oggi a Trebaseleghe. Sì, perché Trebaseleghe oggi rappresenta il concetto che vogliamo portare in Europa. Cioè il nostro territorio, l'importanza delle tradizioni, le nostre radici, la nostra storia. 840 anni di questa bella opportunità di cui noi siamo testimoni e che l'Europa deve diventare capace di capire l'importanza per le persone, per il territorio, ma anche per l'agricoltura, per il turismo, per le nostre opportunità produttive. Un grande affetto oggi per Trebaseleghe con questa manifestazione e anche delle presenze molto importanti. Sì, ma doveroso dal punto di vista europeo esserci come ci siamo stati negli ultimi anni, una manifestazione straordinaria. Quest'anno cade di sabato per cui la cornice di pubblico, che è sempre stata importante negli ultimi anni, però quest'anno è ancora più accentuata. Diventa questo un contenitore dove fare riflessioni tra tradizione e innovazione. Una delle fiere più antiche d'Italia. È bello esserci, ma soprattutto è anche bello che ci sia la possibilità di discutere su quelle che possano essere le prospettive del settore. Assessore, è un evento importantissimo per il territorio, è immancabile la sua presenza, accolta sempre con molto affetto. Sì, beh, altronde io qua ci vengo da quando ero bambino, venivo con mio nonno in bici, per cui insomma per me è una tradizione vitale questa. Non c'è anno dove non ci sia la fiera dei Mussi, è una tradizione bellissima. Tra l'altro molto sentita tutto il territorio, la presenza di molti sindaci, molti amministratori, testimonia esattamente questo. E devo dire che poi lo sforzo organizzativo dell'amministrazione è davvero imponente. Quindi un grazie a loro e buona fiera dei Mussi a tutti. E oggi c'è anche il vicepresidente della Regione Veneto. Sì, storia e tradizione che si tramanda da ben 840 anni. Insomma, sono manifestazioni che è sempre più difficile tenere vive, riuscire ad organizzarle e poterle tramandare. E il pensiero che in tutti questi secoli ci sia sempre stato qualcuno che in questa fiera, in questa manifestazione ci ha creduto, è bello. Perché non è assolutamente scontato. Una presenza oggi, non so, io la prima volta che vengo sono rimasta veramente impressionata dal numero di persone perché credo di non aver mai partecipato ad una fiera con così tante persone partecipanti. Anche perché, insomma, la Regione Veneto, lo sappiamo, è particolarmente attenta alle nostre tradizioni. Sì, allora noi ci crediamo, cioè il Veneto vive di tradizioni, lo diceva prima bene il collega Marcato, cioè il popolo veneto è un popolo identitario, crede molto in questi eventi, in queste manifestazioni, nel territorio, ma soprattutto nel senso di comunità che trova la sua miglior identificazione in queste manifestazioni. E come da tradizione, il 7 settembre a Trebaseleghe è una giornata straordinaria, meravigliosa, Sindaco. È una giornata di festa. Con la Fiera dei Mussi noi celebriamo la nostra tradizione, le nostre radici, in quanto come territorio che è sempre stata area di produzione agricola, questa fiera era il momento della fine della stagione agricola, del momento in cui ci si riforniva di tutte le attrezzature e si faceva mercato dei prodotti agricoli, in particolare si compravano i Mussi che erano la forza di lavoro dei nostri contadini di una volta. Adesso, naturalmente, Trebaseleghe è cambiata, si è sviluppata, ma è importante per noi continuare a celebrare questo momento, che è anche la festa patronale della Madonna, della Natività della Madonna, perché è un momento in cui ritroviamo appunto le nostre radici e ci ritroviamo come comunità. Sindaco, prima quando lei ha parlato, ha sottolineato anche il grande lavoro dei volontari che non si vedono. Sì, davvero, non esisterebbe tutto questo, tutta questa festa, questo clima, se davvero tantissimi volontari, tante associazioni, in particolare l'Associazione Antica Fiera dei Mussi, qui a Trebaseleghe, non si dessero da fare e non organizzassero, non si mettessero in gioco per fare tutto questo. Io devo ringraziarli dal profondo del cuore, e quest'anno in particolare tantissime associazioni hanno collaborato e ognuno ha fatto una parte, un evento, una manifestazione che rende questo momento particolarmente ricco e anche partecipato. Evviva! Evviva l'840esima edizione dell'antica Fiera dei Mussi di Trebaseleghe! Uno sguardo alle condizioni climatiche, martedì, correnti nord-occidentali relativamente più stabili e asciutte, porteranno una fase in cui prevarranno spazi di sereno e non si avranno precipitazioni significative. Poi, nel corso della settimana, le condizioni potrebbero cambiare, ma naturalmente vi daremo gli aggiornamenti con il prossimo Tg. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento.